buongiorno tesori buongiorno oggi non ve lo dico benvenuto in immicenso perché mi hanno dato lo spratto vi dico benvenuto in camera mia che c'è un pasticcio bestiale lo sapete ci sarebbe da rifare tutti i muro ci sarebbe da sistemare un pochino però non c'ho i soldi per cui il muro resta così e c'è un po di umido in inverno vabbè ma tanto che vuoi che sia non è che sia salutare sta cosa però è così d'altra parte finché un crolla finché dura fa ben dura o è che si dice mi sono messa la la felpina della chiara ma ciao chiara amorosa me l'ha regalata la chiara o i teschietti perché io le adoro teschietti vedete ma sono bellini oggi tutta teschiosa ho fatto questo trucchettino sul viola e sul rosa avevo trovato un trucchetto su internet ma bellino sul rosa allora ho detto ora ve lo faccio vedere vi faccio vedere la fotina allora vediamo un po trucco eccolo qua guardate quanto è bello avevo visto questo trucchetto così su internet e mi piaceva riproporlo poi guardando tra trucchi tra le tra le costine che ho nel cassetto e magari sono lì dimenticate perché tutti i miei trucchi ce l'ho a castella zara no ce l'ho dentro il beauty quello lì il trolley c'è tutte le valigette ve l'avevo fatte vedere in un video ora se se un giorno mi figlia lo scrivizzo vi faccio tutto il filmatino dei dei coso me l'avete richiesto io non c'ho tanti trucchi però mi piace ecco farveli vedere c'ho l'ombretto in uno scompartimento in quell'altro c'è le palettine in quell'altro c'è le ciglia finte le matite i cosi l'eyeliner rossettini e lip gloss farde insomma un po di così nelle ciprie fondotinta ora quando quando c'è un attimo di tempo insomma che mi che mi figlia lo sgribizzo ve lo faccio e ragazze così almeno lo vedete anche voi perché vi parlo sempre di questo trolley è rosa è tutto fatto a cassettini c'ha le rotine e ogni cosa ogni scomparto si leva poi ve lo faccio vedere tranquillamente un giorno calma ci si mette lì insomma niente volevo fare questo trucchettino e poi invece ho trovato in questi cassettini che c'ho qui dei prodottini di holly star che avevo comprato tempo indietro ecco io non ci capisco più nulla in questi trucchi perché lo sapete insomma che la lingua batte dove i denti d'olio vero insomma quando ci siamo separate con il mio marito era andata a stare con quest'altro quest'altro uomo avevo portato i miei trucchi lì e molte cose mi sono restate lì molti panni molti trucchi molte cosine le cremine tutte le mie cose mi sono restate lì ora io con questo ragazzo anche se abita qui a badia non ci non ci parlo più lui non parla con me io parlo con lui la cosa è reciproca insomma fate questo perché sapete come andava a finire non si è comportato tanto bene con me purtroppo se avete visto i miei video passati ero un po' confidata con voi e nulla e quindi molte cose mi sono restate lì a casa sua e l'avrà buttata non so che ci ha fatto magari per rabbia l'avrà buttata via e quindi non so dove se c'è un po' di cose qui un po' dalla mia mamma un po' dalla lì la casa della mia nonna un po' qui sono un po' e oggi stavo mettendo a posto questi cassettini che ho spolverato un pochino e ho trovato questo come si dice questa questi ombrettini della della holly star che avevo preso tempo fa dalla della mia amica bianca lei è il rivenditore la profumeria arcobaleno ciao bianca se tu mi guardi bacione e niente ho trovato questo rosa qui ho detto dico madonna allora dico guarda quasi quasi invece di far quello lì faccio un trucco a modo mio ecco mi piaceva far quello però lo faremo un'altra volta insieme e siccome sulle labbra ho lasciato tutti i rossetti la ho portato solo quello rosso rosso ci sta bene con questo trucco allora ho trovato questa matitina e ho messo questa bellino vero è per creare questo punto luce ho rimesso un pochino d'ombretto anche qui nel mezzo così non non appiccica e bellino insomma ecco fatto una cosina così poi volevo dire un'altra cosa io in inverno in inverno in estate succede così insomma tanto e quando si lava piatti quando vabbè io non tutte voi le laverete perché madonna sono mi soffi il naso mi sento un prurito ora faccio uno starnuto annaffio tutti allora quando io lavo i piatti c'ho la brutta abitudine di non usare i guanti non riesco a lavare i piatti con i guanti perché mi scivola tutto di mano mi sono lui solo anche se c'è quella cossina sotto rubidina nei diti e qui però a me mi scivolano più un po spacco ogni cosa poi mio marito si incalza e quindi nulla li lavo così con le mani e le mani con l'acqua calda acqua fredda acqua fredda acqua fredda scusate ma eccomi arri eccomi insomma acqua calda perché nei coso nei di catino lì nei come si dice come si chiama il catino no ora c'è anche il sto qui mi guardo benvenuti nei mici esso cambio di location un'altra volta madonna stavo in un trovo pace ma non è colpa mia mi ero messa a registrare lì in camera vi stavo raccontando di dei catino l'acqua calda aperto la finestra questo qui davanti a me si è messo lì a guardarmi ma insomma un po di un po di rosso via l'ho presa l'ho chiusa e sono venuta qui al bagno ma io non lo so dalla gente ma un po di rispetto per chi deve girare i video ma via insomma è madonna santa ma guardare un po vabbè via che voi sia dai siamo lì cesso ame evviva benvenute nel mici esso vabbè scherzi a parte dai allora ragazze si stava parlando di catino no dell'acqua calda dove ci si lava piatti e poi apri il rubinetto e li sciacquo con l'acqua fredda tanto le uguale le mani con questo andi rivieni di acqua calda acqua fredda si rovinano parte lo spam lo smalto che ti dura un giorno e mezzo se ti dura e poi sulle mani si formano tutte queste pellicine antiestetiche danno anche fastidio ora vedete proprio danno fastidio queste pellicine si formano su sulle dita e allora niente proviamo un sacco di creme c'è quella della ricocche buonissima quelle quell'altra però devo andare a sinalunga perché qui da noi ad abbattia san salvatore laico non esiste e quindi devo andare dove meglio si crede ho trovato una cremina ho trovato una cremina e lei la fine di mondo allora ho trovato questa cremina da acqua e sapone che al burro di cacao e della fito relax fito relax crema mani intensiva termoprotettiva con burro di cacao ragazze vao proprio a parte il fatto che non non unge vo ve la date si assorbe subito non unge io mi proprio lascia le mani morbide 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 proprio proprio morbide ecco non io me la dossi alla mattina e la sera e mi trovo benone ma benone benone non unge la potete passare anche nei capelli così insomma mi tocca i capelli o mi faccio io spesso e non unge e tutte le pellicine non ci sono più vedete proprio resta bellino o questo è lo smaltino della della che con d'accordo ragazze vi lascio al tutorial ciao belle buona domenica io torno torno a castellazzara oggi torno dalla mia nonna dalla mia mamma quindi ci sentiamo giovedì e ci sentiamo su facebook tramite il cellulare c'ho solo quello perché potrei portarmi anche il computer con la chiavetta però la chiavetta la volevo dare siccome jonathan il fidanzato della franci della chicca cambia casa allora ancora non ci hanno messa la linea telefonica dice prestami la chiavetta insomma perché c'ho la chiavetta della vodafone station e quindi mi posso collegare c'è 5 gigabyte quindi è abbastanza grande cioè ci si può collegare va abbastanza veloce insomma e quindi nulla ci si sente così tramite tramite il telefono su facebook su whatsapp insomma ora alcune ragazze mi hanno richiesto il numero glielo ho dato se c'è qualche altra ragazza che lo vuole si vuole smessaggiare ogni tanto così di più e di meno ciao anche te dissi buongiorno le vendino lo stesso pure buonanotte la sera scambiarci qualche fotina qualche cosina di trucco di di smaltino così tanto per fare ecco che per stare in amicizia e e nulla e quindi ci sentiamo così su whatsapp oppure su su facebook così per quanto riguarda i messaggi su su youtube e ancora non ho trovato in modo per cliccare rispondi e non mi riesce non so come si fa quindi dovete aspettare giovedì se vedete non vi risponda commentini non è per cattiveria o perché non vi voglio rispondere voglio farla preziosa è per questo motivo che fino a giovedì io non posso rispondere perché non so come si fa sono branatissima sono negata di tutte queste cose lo sapete vi auguro una buona domenica ci sentiamo giovedì magari rifaccio un altro video blog se vi va se no e tanto sono sempre quali sono io che guido con una matta poi c'è Leo qui sulla gabbia insomma ciao belle un bacione amici gentina ve la volevo far vedere ma un po' briccona perché lei è un po' vergognosa vero briccona no amore no ti scendo ve la volevo far salutare ho fatto vedere Leo ho fatto vedere la briciola proprio toccata e fuga e la minucca un pochino più insomma incazzata perché lei si incazza vero con Leo è incazzata proprio con Leo via saluta le tate e poi ti scendo dai saluta le tatina e poi ti scendo amore morosa 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 non sentite come fa la briciola la minucca oh mamma vado a prendere ho già passato la base di crema ho corretto un pochino le occhiaie stamani volevo usare il fondotinta minerale uso questo di neve cosmetics e si chiama light now neutral neutral sì sì allora vado a prendere il mio il mio pennellino da sempre spalle per dare questo questo fondotinta l'ho preso lì sul sito della della neve cosmetics qualche anno fa e inizio a passarlo è come lo metto un pochino sul tappino inizio a passare questo questo fondotinta ma mi sono particolarmente felice e euforica e sa come mai il motivo ma chi lo sa ogni tanto ci vuole anche ste cose dopo ieri sera siamo state con ste ragazze a parlare su facebook mi hanno mandato tutti i messaggini fa così fa cosa ma proprio mi hanno tirato su di corda sono proprio contenta grazie siete favolose veramente allora passato questo levo l'eccesso con il pennellino da cifra e poi poi ritocca se stessi sopra il cilio perché poi ne so un po scoloritelle senza che ci passano la matita sopra sono un po scolorite ve l'avevo detto che il il tatuaggio si stava stava andando via e tre peli che mi sono restate sono veramente tre peli sentite vado a mettere anche un pochino di cipria prendo questa della new york color proprio un pochino così sotto gli occhi per allargare un pochino lo sguardo che è un pochino stanco un po affaticato dall'età poi ragazze ma quanto sono vischera e quando c'ho voglia di fare strullate così sto proprio bene vuol dire quando c'ho voglia di scherzare allora vado a prendere la mia matitina questa della della cosa della chi ho questa qua il numero 04 che serve appunto è tipo un pennarellino vedete di quelli lì che ha come si chiama indelebili che ci si scrive su cd insomma ci si scrive su sacchettini per metterli sul gelatore insomma così allora vado a sistemarmi ste ste sopracciglia vicinine che a piccoli trattini ok finito con le sopracciglia vado a prendere il come si chiama il primer questo qua prendo della Too Faced e lo passo su tutta su tutta la palpebra sia mobile che fissa e ragazze allora uso l'anulare perché è il dito che c'ha la pressione più più delicata ho sentito qualche video su youtube dicevano così ma senti Diego io non la sapevo sta cosa invece si vede che l'è vero perché tutti dicono così e quindi ok eccoci qua allora ora con con questa ma io non mi casca tutto volevo accendo una sigaretta e madonna mia ho fatto un po' di di osso di confusione io accendo le sigarette e poi mi si consumano tutte puntualmente dentro il portacenere allora con questa matita eyeliner della grisibo come si chiamano queste qui questo colorino qui vediamo un po' se c'è il numero ve lo dico 107 è una cosa una marca naturale che si trova da acqua e sapone è molto economica insomma costa pochino allora vado a fare questo tipo se dovessi mettere un eyeliner e lo dovessi mettere anche nella nella piegatura dell'occhio ai ragazzi va bene allora vado a fa così così tipo una virgolina così e poi vado nella piegatura dell'occhio ecco poi che è successo madonna si è rotto un pezzettino di punta ecco allora da questa palettina della fraule vado a prendere un colore un pochino sul come si chiama sul tipo viola melanzana e volevo prendere questo qui sembra nero però è viola melanzana eh ragazze allora prendo un pezzetto di cartigenica perché questi qui sono un po' polverosi di colori allora io prendo un pezzettino di cartigenica così non ci sono problemi poi prendo questo pennellino vediamo un po' se non rimetto a posto dentro sti pennelli c'è un pasticcio allora prendo questo pennellino qui appunta così da sfumatura della della zoeva e prendo questo colorino e proprio sulla punta eh e inizio a lavorare su questa matitina commessa allora fatto questo prendo questo eyeliner si questo questo ombretto della della hollistar si chiama perla lurex è il numero 7 lilla platting si chiama oddio non si vede tanto bene comunque lei della hollistar e è un pigmento molto eh sul rosa e dorato ora se mi riesce ve lo facevo vedere ecco allora lo vado a mettere un pochino nel coperchino e lo prendo piano piano allora siccome è una cosa polveroso è parecchio polveroso e dorato sul rosa dorato vado a mettere sempre la mecosa di cartigenica e lo passo su tutta la palpebra mobile vedete quanto è bello allora che cosa faccio prendo il pennellino sempre da sfumatura ora vado a prendere un altro po' di colore sempre di questo qui rosa che ho messo qua e lo vado a passare e a sfumare con il viola che ho preso eh così vedete allora ora sotto l'arcata sopraccigliare vado a prendere sempre il mio colorino color burro della kiko questo qui numero 128 prendo un pennellino questo di essence e vado a fare questa parte un pochino più chiara eh ok allora ora voglio eh allargare un pochino lo sguardo quindi prendo questa matitina questa qua che è della New York color è bianca è un mozzicone piccolo piccolo ma tanto va bene uguale finché finché dura fa verdura lo sapete eh e la passo sotto l'occhio poi prendo una matitina nera questa della Reveal come cavolo si chiama e la passo proprio eh all'attaccatura delle sciglie inferiori ecco qua mmm ora vado a prendere il mio eyeliner di kiko questo qua che è in gel quasi finito le poi vado a prendere un pennellino da eyeliner prendo questo di fraule e inizio a lavorare sull'occhio allora inizio a fare la parda da mezzo verso l'esterno e ora vado a occuparmi della parte da interna dell'occhio allora finito qua finito di mettere l'eyeliner e vado a fare un po' di contouring perché c'è un muso bianco eh ragazze mmm allora vado a fare un po' di contouring e lo faccio con la polvere qui la terra della della eh allora sulle gote vado a mettere sempre il mio il mio blush della della kiko che il numero 106 eh ok sulle labbra vado a mettere una matita mmm oddio come si chiama questa di queste grosse mmm della rimel è una cosa mozzicone però è bellino rosa cioè a definire il il contorno con una matita della sempre della grisi questa qua che è sul rosa il numero è 135 allora un pedaglio un pochino più di luce prendo il solito ombretto di collistar e lo metto un pochino qui e un pochino di sopra così ecco ok ora andiamo a occuparci degli occhi che ti aveva preso un collo che era venuta e ti aveva preso un collo fa un salutino alle tate via un salutino qua ti lascio e vai a giocare ma ascolta ma stamani non facciamo niente niente eh eh ditele un po' le tatine che ti hanno fatto il buco amore del vaccino del richiamo ora fino ad un altro anno siamo appunto vero? eeeh o che serva e la minua stamani che ti ha fatto? d' un bacino e dai 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 tu amore e ti va sì? eh? no? sei un po' arrabbiata puoi scendere? ovvio su faccio caccia cua la minua ciglia finte e le metto va l'appoggio che come l'esistenza ecco e prendo il mascara questo di chico questo qua 30 days extension extension e lo vado a mettere sulle mie ciglia in modo tale da attaccarle con quelle con quelle finte allora metto appena appena di di mascara anche qui in fondo perché mi hanno detto dice non lo mettere sotto ora però senza metterlo sotto a me il trucco non mi sa finito allora voglio provare a metterlo solo nelle puntine basse in fondo senza metterlo laterale ok d'accordo ragazze allora per aprire appena appena lo sguardo e prendo la mia matitina della della neve cosmetics e ne metto un pochino qui proprio a bordo occhio ai ragazzi ecco uno e due proprio un puntino piccino piccino non tanto è che se non è brutto poi è così ok io penso che il trucco sia fatto spero che vi sia piaciuto spero di avervi tenuto compagnia a guardare il caffè via la rococco ciao belli un bacione ok ok